quando scoppiò la seconda guerra del golfo nel 2003 la maggior parte dei paesi ritirarono i propri ambasciatori da bagdad il vaticano che si è sempre opposto alla guerra decise che il nunzio apostolico l'attuale cardinale fernando filoni sarebbe rimasto nonostante il bombardamento americano l'aver poi vissuto con loro ha dato a ciascuno di loro la possibilità di sentire che noi non andiamo via perché c'è la guerra gli abbandoniamo ma chi la chiesa è solidale il prossimo marzo il papa andrà in iraq visiterà mosul la città che è stata sotto il controllo dell'isis per più di un anno un possibile problema per la sicurezza della visita pontificia se parliamo di rischi non ci dovremmo muovere ovviamente le autorità faranno in modo che sia anche una visita nella sicurezza come noi tutti ci auguriamo ma credo che saranno come ho visto anche in altre occasioni gli stessi cittadini la stessa popolazione a garantire quella sicurezza che non basta solo da un punto di vista della sicurezza della polizia o politica eccetera a chi pensa che sarebbe stato meglio aspettare un momento di maggiore stabilità nel paese il cardinale filoni da una risposta netta non si può pensare di poter andare in questo paese che piano piano cerca di trovare anche una sua strada quando questa strada sarà tranquilla piana senza difficoltà questo è fuori della logica ma anche della logica soprattutto della chiesa cristiana noi siamo con la gente se la gente soffre siamo anche lì momenti di sofferenza la presenza del papa in iraq il prossimo marzo potrebbe anche portare a un maggior rispetto per le minoranze religiose all'interno del paese grazie a tutti